L'abitudine a posizioni sbagliate può provocare infiammazioni muscoloscheletriche e quindi dolore. Per fortuna c'è Momendol e il dolore se ne va presto. Visto? È passato. Con Momendol il dolore da infiammazione se ne va presto e per tutto il giorno. Mal di schiena, torcicollo, Momendol, sollievo pronto, sollievo a lungo. È un medicinale, può avere contraindicazioni ed effetti collaterali, leggere attualmente il foglio illustrativo, non somministrare sotto i 16 anni. Ah, la posizione corretta è questa. Grazie.